Inaugurata qui a Cornier una sede del CNA che offre servizi alle imprese. Che tipo di servizi? Beh, il CNA ha questa sede da tanto tempo a Cornier. Ci siamo spostati in una sede più capiente, dove possiamo offrire, oltre degli spazi maggiori, anche la completezza dei servizi, che è un po' la caratteristica di CNA. CNA da sempre offre questi servizi a 360 gradi alle imprese, quindi che parte sia, comincia dallo studio della fattibilità di un'impresa, che è una cosa molto importante, quindi cercare di trasferire la cultura di impresa anche ai piccoli artigiani e alle piccole attività. Oggi qualsiasi attività che uno vuole aprire ha tutta una serie di normative che gli imprenditori devono conoscere, sia piccoli che grandi. Ecco che quindi c'è bisogno, soprattutto per i piccoli, di avere un supporto e CNA questo supporto lo dà da sempre e sempre di più. Quindi anche nella sede qui di Cornier, che è un distaccamento della sede di Ivrea, con questo fatto di essere riusciti ad ampliarla, ecco che quindi tutta questa zona dell'Alto Canavese, che è una zona molto dinamica da un punto di vista soprattutto industriale, ma anche commerciale, insomma, e raccoglie anche tutte le valli del Valle Orco, la Valle Soana. Quindi chi viene a iniziare un'impresa può innanzitutto usufruire dell'apporto di consulenza iniziale e poi nel momento in cui l'aprirà tutta una serie, diciamo, di servizi che le imprese hanno, quindi dalla contabilità alle paghe, i contributi, alla sicurezza, all'ambiente. Ecco, quindi direi che CNA è a tutto tondo da questo servizio alle imprese. Quindi un accompagnamento fin da prima della nascita per tutta la durata della vita dell'azienda. Esatto, esatto. Oggi è molto importante, come le dicevo prima, avere questo primo feedback, perché molte persone hanno ancora, diciamo, un'idea un pochettino così mitica di aprire un'impresa, insomma, un'idea un pochettino a volte con dei contorni non troppo definiti. Ecco che quindi il primo approccio è molto importante, quindi i nostri consulenti danno subito, diciamo, arrivano anche tramite il progetto MIP, che è un progetto finanziato dalla regione, prima dalla provincia, in cui CNA è stato uno tra le capofila, insomma, ad erogare questo tipo di servizio e quindi arriva fino a dare un primo business plan alle imprese che vogliono iniziare. Poi da lì, naturalmente, aspetterà l'imprenditore a capire se esattamente, insomma, è una cosa che vuol fare, se sì, allora si parte. Quindi tutto il resto a cascata viene, insomma, ha il supporto sempre della CNA. Com'è l'andamento sul territorio, visto il periodo di crisi dopo la pandemia? C'è una crescita delle imprese artigianali o una diminuzione? Ma diciamo che in questa zona qui dell'Alto Canavese, le imprese, soprattutto nel comparto metalmeccanico, stanno lavorando tutte. Anche i servizi, di conseguenza, insomma, non vediamo un grosso problema, diciamo, contingente. Vediamo che c'è molta ancora incertezza e quindi naturalmente, insomma, per fare degli investimenti, per aprire nuove attività, bisogna essere molto cauti ancora. Direi che nonostante, appunto, il primo periodo del Covid, poi questa supposta uscita dal Covid, l'avvento della guerra è chiaro che non porta, diciamo, delle prospettive di un futuro troppo rose, insomma. Però, nonostante tutto, vediamo che comunque le imprese tengono. Noi abbiamo comunque anche un incremento positivo per quest'anno di nuove imprese rispetto agli altri anni e quindi sono qualche unità, però, insomma, quando c'è sempre un segno più è sempre un ottimo auspicio, insomma, in questo senso. Quindi un trasferimento, un ufficio più ampio per curare meglio le imprese? Certamente. Noi qui siamo, in realtà, a Quornè, ci siamo da quasi 40 anni. La sede principale, è vero, è quella di Ivrea. Questo trasferimento, anche, diciamo, post-pandemico, per nevole essere una rinascita. Rinascita anche del, diciamo, del contatto con le imprese di questa zona, di Quornè, soprattutto, come tradizione artigianale, e quindi è l'occasione per ingrandire l'ufficio, stabilizzarlo in termini di personale, e quindi c'è una sede che è aperta non solo qualche giorno alla settimana, ma sempre, tutti i giorni, con dei colleghi che seguono, in parte, anche l'ufficio di Ivrea, ma anche solo, esclusivamente, la sede di Quornè. Io, come responsabile della sede di Ivrea e di Quornè, sono presente qui, diciamo, una volta alla settimana, e quindi, grazie ai contatti anche con l'ente pubblico, che abbiamo coinvolto nell'inaugurazione, e anche sentito per eventuali progettualità da fare in comune, vorremmo, appunto, rinascere, anche se siamo qui, ripeto, da molti anni, e ampliare la zona dell'Alto Canavese, come riferimento. Noi, per quello che riguarda la CNA di Ivrea, non abbiamo dati esattamente disaggregati, ma diciamo che, per quello che riguarda la CNA canavesana, quindi, le Porediese e Alto Canavese, abbiamo circa 800 imprese associate. Di queste, diciamo, potrebbero essere circa 200, 200-300 quelle di questa zona, ma, come potete immaginare, non ci sono confini, ovviamente, già in Canavese, quindi sono, però più o meno potrebbe essere questo il rapporto. Quindi, quello che ci interessa è, però, incrementare la nostra presenza qui, anche con un numero maggiore di associati. Per rapportarsi con voi, le imprese devono prendere appuntamento, possono venire in determinati giorni, dove? Allora, per rapportarsi con noi, le imprese trovano l'ufficio aperto 5 giorni alla settimana, quindi dal lunedì a giovedì, 8.30, 13.14, 17.30, il venerdì, 8.30, 13.14, 16.30. Poi, se ci sono delle problematiche particolari e specialistiche, visto che la CNA è strutturata anche per rappresentanza dei mestieri, quindi in maniera verticale, quindi ci sono dei colleghi che seguono appositamente mestieri, oltre che servizi in maniera orizzontale, ovviamente, se ci sono delle problematiche simili, si affrontano e si prende eventualmente un appuntamento per affrontare il problema.